Farsi conoscere sul territorio, illustrare i corsi tutte le novità, ma anche illustrare particolari manovre come le manovre salvavita pediatriche. Questo è il senso della due giorni che ha visto la Croce Rossa di Sulmone in prima linea a contatto con la popolazione nel centro commerciale Il Nuovo Borgo. Il progetto delle manovre salvavita pediatriche racchiude coi percorsi formativi e informativi che tendono in modo coordinato a aiutare ciascun individuo o gruppi di persone che sono a contatto con i soggetti in età pediatrica e a conoscere, acquisire e sapere seguire azioni e modificare i propri comportamenti per mantenere e migliorare la salute dei bambini. Un approccio che è stato reso anche ludico proprio per i più piccoli, non sono mancati momenti di svago ed esercitazioni.